Sabato 10 novembre dalle 14 alle 16 e 30 come ormai ogni anno in occasione di San Martino avverrà la consueta raccolta di San Martino per le vie della nostra città, del nostro paese. I sacchi gialli caratteristici di questa raccolta sono già stati distribuiti. Vi ricordo la finalità di questa raccolta che quest'anno è proprio un aiuto alle persone colpite dal terremoto nel nord Italia, raccoglieremo vestiti, sui sacchi che avete già ricevuto nelle vostre case sono segnate le cose da poter mettere in questi sacchi. Vi ricordiamo che la raccolta Caritas è una raccolta dove far parte di qualcosa di nostro a queste persone meno fortunate e più svantaggiate. Vi ricordo infine che i sacchi possono essere portati dal 5 al 10 novembre in oratorio oppure proprio il 10 novembre al pomeriggio passeranno i ragazzi dell'oratorio insieme ad alcuni adulti a prendere questi sacchi. Quest'anno c'è una piccola novità, ci saranno dei punti di raccolta, cioè non basta depositare il proprio sacchetto fuori dal cancello ma per facilitare la raccolta e il lavoro degli adolescenti e dei giovani che ringrazio di cuore abbiamo alcuni punti di raccolta che adesso vado proprio a elencarvi. Via Bergamo, il parcheggio zona tennis, piazza Paradiso presso il Sagrato della Chiesa, via Brasi nella sede della Caritas, piazza Sant'Anna, via San Defendente alla Chiesa, via Trieste presso l'Istituto Suore della Sapienza, via Pregunì, i Giardinetti, via Vittorio Emanuele il parcheggio, via Venezia l'incrocio con via Bonomelli, via San Vincenzo dei Paoli piazzale Aci, via Nicola Iefca incrocio con via San Lucio, via Dante presso l'oratorio, via Sant'Alessandro sia ai Giardinetti vicino alle scuole medie sia al parcheggio della comunità montana e infine via Moroni presso i Giardinetti. Vi chiediamo di portare i sacchi in questi punti di raccolta e vi ringraziamo già fin d'ora per la solidarietà che anche in questo modo fate sentire a queste persone. Grazie di cuore.